Dicembre e gennaio sono mesi decisivi per le attività commerciali padovane. I negozi concentrano in questo periodo gran parte del loro fatturato annuale e quindi i commercianti sono attentissimi alle regole e alla concorrenza. Ora ecco l'allarme per l'aumento di negozi che propongono vendite di liquidazione per rinnovo locario o rinnovo mobilio, un fenomeno che potrebbe essere motivato dal tentativo di aggirare le regole dei saldi e quindi in questo caso una vera e propria concorrenza sleale. Parliamo di vendite di liquidazione per rinnovo locale e per cambio gestione che hanno una normativa e vengono controllati dalla Polizia Municipale e dal Comune. Abbiamo segnalazioni di colleghi commercianti che segnalano il loro competitor in cui fa liquidazioni non autorizzate. Le regole per questo tipo di liquidazioni ci sono e sono rigorose. Serve ad esempio una richiesta da fare prima dell'inizio della vendita, una relazione che indichi nel dettaglio gli interventi e infine un dettagliato inventario della merce. E dall'inventario non può più riassortire merce, quindi è una vendita di liquidazione per la merce che c'è esattamente nel punto vendita. Finita la vendita e liquidazione che può durare al massimo sei settimane deve chiudere il locale per almeno una settimana per poter fare i cosiddetti lavori. A Padova l'ASCOM ha chiesto all'assessorato al commercio una verifica diretta dei negozi interessati ed eventualmente far partire le sanzioni, soprattutto se in quelle vetrine la merce in vendita viene riassortita dopo l'inizio della liquidazione. Ai clienti il compito di tenere gli occhi aperti e ai comuni quello di fare controlli veri. Che non siano prodotti già usciti dal negozio con il 50% di sconto giusto per attirare solo l'attenzione del cliente senza vedere la qualità. Quindi la qualità prima di tutto. Grazie. 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 Grazie.